Il 2 maggio 1519 in un paesino della Loira ad Amboise si spegneva Leonardo da Vinci, una figura poliedrica, ingegnere, artista, pittore, inventore e genio. Noi di Darwin lo vogliamo ricordare così, con un pizzico di ironia attraverso le parole di Pietro Cuomo, storico e spassosissimo divulgatore. Leonardo inventò tante macchine, o meglio le disegnò perché ne realizzò davvero pochissime, e inventò anche la prima forma di curriculum e di lettera di presentazione, rivolta a niente po' po' di meno che a Ludovico il Moro. Leonardo da Vinci, torno ai suoi 30 anni, si prepara a lasciare Firenze, la città in cui è cresciuto e ha imparato a fare l'artista. Si mette alla ricerca di un possibile datore di lavoro, di un patrono, di un mecenate, possiamo pure l'espressione che preferiamo, e individua il soggetto perfetto nel personaggio che all'epoca governava Milano, Ludovico Maria Sforza ha detto il Moro, e che fa Leonardo? Gli scrive una lettera di presentazione, oggi diremmo gli scrive una cover letter, praticamente Leonardo gli manda questo papello lunghissimo in cui in dieci punti dettaglia tutto quello che si proclama in grado di fare. E da leggere questa lettera è molto divertente, perché a parte ci rivela quanto davvero Leonardo fosse in anticipo sui suoi tempi, perché lui scrive tenendo ben presente quello che potrebbe servire al suo interlocutore. E poi ci parla delle sue aspirazioni più recondite, perché Leonardo non si propone come artista, non si propone come pittore, non si propone come scultore, lui si propone come ingegnere. Per nove punti su dieci, Leonardo parla delle meraviglie che sarebbe in grado di realizzare al servizio di un signore ambizioso, e copre tutti i campi dell'attività umana. A parte che ci dice qualcosa d'altro anche riguardo al suo carattere, perché come comincia questa fantasmagorica lettera, con Leonardo che dice che tutti gli altri che promettono grandi cose, che promettono cose innovative, in quell'epoca in realtà non hanno nulla di nuovo da dire. Lui è l'unico, lui è l'unico che è effettivamente in grado di fare cose nuove. Quindi Leonardo re dell'umiltà. E poi attacca. Se noi prendiamo per esempio il punto numero uno, Leonardo, l'uomo universale, l'artista del rinascimento per eccellenza, sono in grado di creare ponti, robusti ma maneggevoli, sia per attaccare nemici che per sfuggirgli, ponti da usare in battaglia, in grado di resistere al fuoco, facili da montare e da smontare, e so come bruciare quelli nemici. Insomma, Ludovico il Moro, sui ponti stai tranquillo, siamo coperti. Prendiamone un altro, non lo so, il mio preferito personalmente è il punto numero nove. In caso di battaglia sul mare, cioè lui scrive al signore di Milano parlandogli di battaglie marine. Vabbè, non lascia proprio nulla di intentato Leonardo da Vinci. Punto numero cinque, sono in grado di ideare e creare, in modo poco rumoroso, percorsi sotterranei, per raggiungere un determinato luogo, anche passando al di sotto di fossati e fiumi. Attaccato al sei, costruirò carri coperti, sicuri e inattaccabili, e dotati di artiglierie. Questo è il punto in cui, secondo alcuni, Leonardo è il primo nella storia a pensare al carro armato. E va avanti così. Per nove punti su dieci, lui non parla di arte, lui parla di guerra, parla di distruzione. Al decimo punto, non parla di arte uguale, parla comunque di ingegneria, ma ingegneria civile. Vediamolo. In tempo di pace, sono in grado di soddisfare ogni richiesta nel campo dell'architettura, dell'edilizia pubblica e privata, e nel progettare opere di canalizzazione delle acque. Ancora ingegneria. Come postilla al punto numero dieci, Leonardo cerca lavoro, è disperato nel cercare lavoro, e ci mette anche, che cosa? Sorrealizzare opere scultorie in marmo, bronzo e terracotta, e opere pittoriche di qualsiasi tipo. Postilla del punto numero dieci, come dire, mi è rimasto un pezzo di foglio, poi sembra che ho voluto economizzare, sull'inchiostro, mettiamoci anche questo. E poi la chicca che tutti i grandi esperti sul modo perfetto di scrivere un CV oggi mettono. Scrivete per quelli che lo leggeranno il CV, proponetevi per qualcosa che possa essere utile a loro, e allora Leonardo, in anticipo di 500 anni sui suoi tempi, cosa fa? Potrò eseguire il monumento equestre in bronzo che in eterno celebrerà la memoria di vostro padre, Francesco Sforza, e della nobile casata degli Sforza. Fondo, fondo, in fondo. Questo era Leonardo da Vinci, uno che per tutta la vita a quanto pare avrebbe voluto fare l'ingegnere e che invece suo malgrado si ritrova a fare il pittore. Certo, noi abbiamo guadagnato alcune delle opere più straordinarie che la mano dell'uomo sia mai stato in grado di realizzare, però, povero Leonardo, il nostro pensiero va a te, Leo. Leonardo è uno dei personaggi più famosi della storia, non solo della storia dell'arte, ma della storia in generale. lui incarna perfettamente una delle epoche più straordinarie della storia umana e contemporaneamente gode di una fama che è difficile da spiegare. Cioè, Leonardo è stato un personaggio straordinario, è stato un genio, però se noi andiamo a fargli le pulci, come si potrebbe dire, vediamo che Leonardo in realtà, nella sua vita, ha fatto pochissimo, ha immaginato tantissimo, ma ha realizzato pochissimo. Quel pochissimo è stato sufficiente a riscrivere la storia dell'arte, però un esercizio che si fa spesso, provate a citare tutte le opere pittoriche fatte da Leonardo. Quali sono? La Gioconda, naturalmente, la Dama con l'ermellino, se si perde un quarto d'ora si arriva a dieci. Con l'aiuto di Wikipedia si arriva a tutte e diciotto le opere pittoriche realizzate da Leonardo, attribuite in maniera certa a Leonardo. È poco, è pochissimo per quello che è il pittore per eccellenza, l'uomo universale? Leonardo ha immaginato tantissimo, Leonardo ha lasciato migliaia di pagine con progetti di ogni tipo, con studi in ogni campo del sapere umano. Studi. Cosa ha effettivamente realizzato Leonardo di tutti questi studi? Qui stiamo ancora a chiederci se effettivamente abbia mai fatto volare uno dei suoi assistenti e quello è il campo più famoso. Tutte le armi incredibilmente immaginifiche che si è messo lì a disegnare su carta, tutti i progetti. Leonardo, secondo me, questa è la mia umilissima opinione, è così famoso anche per questo. È una fonte inesauribile di ispirazione per tutto quello che è stato capace di progettare, ma contemporaneamente con il fatto di aver realizzato pochissimo, l'asticella è molto bassa. Il cavallo di Leonardo di San Siro, Leonardo quella tecnica non l'avrebbe mai adoperata, però quel cavallo esiste, il cavallo di Leonardo no. Leonardo progetta un ponte da sottoporre all'attenzione del sultano di Costantinopoli, del sultano di Istanbul. Il progetto viene scartato perché viene ritenuto dagli ingegneri alla corte del sultano troppo avveniristico, impossibile, non starà mai in piedi. Oggi una versione ridotta di quel ponte è in Norvegia perché negli anni 90 del 900 un architetto norvegese è stato ammaliato dal fascino di Leonardo ed è riuscito a farlo. Leonardo è così, Leonardo ti prende perché ha spinto lo spirito dell'uomo quanto più lontano era possibile immaginare ma allo stesso tempo con il fatto che ha fatto pochissimo, lo so che sembra un'eresia ma ha fatto pochissimo, cimentarsi con Leonardo è una delle cose più semplici che si possano immaginare. Tarwin ora vi porta a visitare uno zoo non di animali che vivono in cattività perché noi siamo per gli animali liberi in natura ma degli animaletti tecnologici vi portiamo a visitare uno zoo innovativo alle porte di Torino bracci robotici macchine industriali e banconi da lavoro intelligenti e collaborativi questi sono gli animali tecnologici che si trovano nel centro iper tecnologico di Cuca Cuca è un'azienda multinazionale leader nella costruzione di automazione per l'industria e anche soluzioni innovative per la cosiddetta fabbrica 4.0 Alessandro Isidoro Re lo ha visitato per noi guardiamo questo zoo tecnologico che abbiamo a Grugliasco ed è la nuova sede di Cuca Italia dove ci siamo trasferiti l'anno scorso è popolato di animali effettivamente gli animali per noi sono animali del mondo industria 4.0 quindi parliamo di robot parliamo di robot industriali parliamo di robot collaborativi cioè quella tipologia di robot che possa lavorare insieme alle persone in sicurezza fianco a fianco parliamo di robot mobili quindi di piattaforme mobili con dei robot che si spostano all'interno di un'area produttiva per andare a fare le loro applicazioni in più punti dell'area produttiva parliamo di dati cioè del mondo che viene chiamato della data acquisition e data analysis e cioè prelevare dalle stazioni di produzione ad esempio dai robot dei dati utili da elaborare poi con dei software che possono essere ad esempio dei software cloud based quindi dei software che giacciano effettivamente in rete nel cloud e elaborano questi dati per dare poi delle informazioni utili al cliente informazioni utili che possono essere quello della manutenzione preditiva piuttosto che mi avvisano prima che il robot o la macchina si guasti questo zoo tecnologico in realtà è un technology center dove noi vediamo entrare da un lato gli imprenditori delle piccole e medie imprese italiane e li vediamo uscire si spera nel giorno stesso con un'infarinatura di industria 4.0 che gli faccia capire effettivamente se e di che cosa hanno bisogno in quell'ambito questo a mio parere è molto importante perché spesso sembra di vivere in una dittatura del 4.0 non è un obbligo si può vivere anche senza questo diciamolo allora io direi che tutti gli oggetti che abbiamo vicini intorno automobili microfoni telecamere venivano prodotti anche prima che si parlasse di industria 4.0 forse non venivano prodotti nello stesso modo quando si parlava di industria 3.0 cioè la terza rivoluzione industriale che è quella che ha visto la nascita se non mi ricordo male a fine anni sessanta del PLC cioè del sistema logica programmabile quindi fondamentalmente una specie di computer che programma degli oggetti che si possono ad esempio muovere possono produrre da lì è nata l'automazione spinta per la produzione ad esempio delle moderne automobili e tutto ciò che ci sta intorno l'industria 4.0 non fa altro che prendere questa tecnologia esistente che effettivamente genera poi i prodotti che usiamo da anni e la digitalizza cioè prende o meglio propone di prendere dei dati da queste tecnologie per poterli elaborare oppure portarceli dietro quindi dare la possibilità di vedere un impianto produttivo che sta lavorando sull'applicazione del mio cellulare e vedere se sta lavorando adeguatamente se c'è la necessità magari di fare un upgrade del software piuttosto che i tempi ciclo non siano quelli adeguati quindi diciamo una remotizzazione delle stazioni di lavoro unitamente a un paio di tecnologie che prima non c'erano che fondamentalmente sono la robotica mobile per noi la robotica collaborativa sono delle tecnologie produttive che non vanno a cambiare i prodotti perché io non ho ancora inventato l'automobile che vola in produzione di scala ma vanno a migliorare quello che è il flusso produttivo ad esempio dell'automobile hai detto tante volte il verbo vedere importante se non sbaglio a Parma a maggio ci sarà un appuntamento spiegaci cosa farete lì cosa porterete sì allora a Parma abbiamo due grossi filoni per noi diciamo applicativi rappresentati il primo è quello inerente all'industria 4.0 il secondo è quello inerente alla formazione delle persone e soprattutto dei ragazzi quindi la formazione degli istituti secondari prevalentemente per quanto riguarda quello legato a industria 4.0 porteremo un robot collaborativo su una piattaforma mobile per far vedere che cosa sono queste tecnologie abilitanti spiegando anche in un paio di workshop come andiamo a utilizzarle come andiamo a programmarle come andiamo a prelevare i dati di lavorazione di questi robot in maniera molto semplice vogliamo far vedere che sia molto facile avvicinarsi queste tecnologie e sia necessario usarli solo laddove sia necessario chiaramente dall'altro lato avremo delle sessioni di formazione per docenti ma anche per ragazzi su argomenti inerenti alla robotica inerenti alla programmazione dei sistemi di robotica mobile dei sistemi collaborativi inerenti alla programmazione semplificata di questi sistemi quindi come è possibile programmare contemporaneamente una macchina utensile e un robot utilizzando lo stesso linguaggio e soprattutto cercheremo di diffondere quella che è la cultura di Industria 4.0 cioè che cosa significa Industria 4.0 e dove i professori quindi la scuola del domani diciamo si dovrebbero indirizzare sui loro piani di studio questo è un tema importantissimo quello della formazione ci sono un sacco di dati c'è bisogno di qualcuno che li approcci che li lavori che li processi che li elabori quindi questo tema però lo affrontiamo un'altra volta grazie intanto e buon lavoro grazie a te arrivederci per ora è tutto ma io vi aspetto prestissimo per una nuova puntata di Darwin e buona visione qui su Zellic TV Grazie a tutti